Sì, arrivi qui, qua sotto. Cioè quindi fai il contrario, esci di qui o... Esci di qua. Andiamo su. E' zaccato. Il sentiero dal boschetto, che si butta sulla sinistra, che non l'abbiamo mai fatto. L'abbiamo fatto l'altra volta con Matteo, li spuntiamo qua sotto. Ed è bello. Fa tutto il sentiero in mezzo al bosco. E' che bello di là. Vedete che è bello che è? Questa ricorda moltissimo l'alta via, c'è quel pezzo in alto. Questo è che è figo in mezzo al bosco. Sì, bello, questo bosco è bellissimo. E' bello, eh. Questi sono i tatti che mi piacciono anche. Sì, bello. Sì, bello. avete fatto tutti il salto immagino quel salto l'anno avete fatto il troppo l'acqua che c'è il salto anche qua porca vacca l'acqua che c'è il salto dietro col culo ti porta ad andare dritto di lì io sono passato tutti di là però ho dovuto mettere bene il culino il ciotolato non è bellissimo là è bello è divertente allarga le curve bravo è fatto bene a non inchiodare adesso ho capito perché non lo becchi questo posto qua e se ci arrivi alla velocità che ci stavamo arrivando cazzo la faccia delle curve cazzo in questo momento viene di passarci sopra ma deve arrivarci non oso pensare cosa c'era dietro non c'è niente non c'è niente c'era discesa non vedo no è quella che abbiamo fatto questa mattina è una fresca sì così provi anche altri percorsi Che c'estava il gatto nero, no? Grazie a tutti.